Siamo molto preoccupati di quello che è accaduto negli Stati Uniti d'America. Noi rispingiamo la violenza da qualunque parte essa provenga e l'esasperazione dei toni, dei linguaggi, non aiuta certamente a un confronto democratico e su questo vogliamo essere netti e chiari. Ecco, Salvini è proprio l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare un politico in questo momento, cioè quello di ridurre i toni, invece Salvini come pratica costante è colui che esaspera i toni e francamente è quello di cui non abbiamo bisogno. Noi come Alleanza Verdi e Sinistra e Verdi vogliamo lavorare affinché ci sia una linea comune delle opposizioni sul riarmo, anche perché le spese per gli armamenti hanno raggiunto la cifra record drammatica di 2.443 miliardi di dollari. In Europa 300 miliardi di dollari vengono spese per armamenti, basti pensare che la Russia spende 110 miliardi e la Cina 296 miliardi di dollari, mentre gli Stati Uniti d'America arrivano a quasi mille miliardi di dollari e tutto ciò accade nel momento in cui nel mondo 750 milioni di persone non hanno accesso al cibo e i conflitti aumentano e con noi dobbiamo assolutamente fermare questa spirale perché non vogliamo che in Italia e in Europa e nel mondo ci sia un'economia di guerra che tagli le spese e i servizi essenziali alle persone e si fermi il contrasto alla povertà sociale. Grazie a tutti.